Un bilancio passato da 142 a circa 80 milioni di euro in 10 anni, un taglio del 40%. Basterebbe questo dato per far capire il drastico ridimensionamento che ha subito il Comune di Arezzo e con esso tutti gli enti locali nelle ultime legislature, anche quando la gestione dei conti è stata corretta e lungimirante. In questo contesto, tuttavia, il Comune è riuscito a incrementare leggermente la spesa per il sociale e a far sentire la sua voce ora per la battaglia a difesa del 118 e ora sulla cosiddetta Tassa dei Fossi. Forte l'impegno anche per ridurre il rischio idraulico. Abbiamo cercato di rimediare anche a delle mancanze che esistevano creando due casse di espansione sul Castro e sul Bicchieraia. In passato queste opere che pur erano state previste non sono state realizzate, oggi le realizziamo, ahimè, a spese di tutti i cittadini. Ma è inevitabile che ciò avvenga perché ciò metterà in maggior sicurezza, non in sicurezza assoluta, ma in maggior sicurezza certamente tutta la città di Arezzo. Il 2013 verrà ricordato come l'anno dell'approvazione del regolamento urbanistico e del regolamento edilizio dopo anni di dibattito a volte aspro, ma anche per lo scioglimento dell'antefiara antiquaria. Tanti cantieri portati a termine, nonostante le difficoltà di molte aziende appaltatrici, una su tutte le MBF, come il nuovo campo scuola, i centri sociali di San Marco e Tortaia, la casa diritta dedicata ai servizi per l'infanzia e la casa delle culture, uno spazio per le arti e per i temi legati alle migrazioni. Presto in arrivo 87 telecamere per aumentare la sicurezza percepita. Abbiamo creato le condizioni perché la nostra città venga maggiormente apprezzata. Ora cominciano a vedersene i risultati perché quest'anno, in controtendenza rispetto al restante territorio, abbiamo avuto un incremento del 17%. Certamente ha contribuito anche i Castica, della quale si potrà dire tutto il male possibile, ma non che non abbia portato Arezzo all'attenzione internazionale.